Buona giornata amici, bentrovati alla rassegna stampa di Fano TV. Oggi è venerdì 8 marzo 2024, una data importante, quella di oggi, ne parleremo poi. Intanto vediamo subito chi si festeggia oggi. È San Giovanni di Dio. San Giovanni di Dio, eccolo qua nella grafica, visse nel XVI secolo portoghese. Da prima militare, combatte contro i turchi in Ungheria, poi pastore. Infine, prete, fondatore dell'ordine dei Fatebene Fratelli. Giovanni si distinse nella sua vita per la cura agli ammalati e per il suo apostolato. Un'opera che lui si ispira, lo sappiamo tutti, è l'ospedale di Fatebene Fratelli nell'isola tiberina a Roma. Vediamo le previsioni del tempo. La giornata, possiamo dire, inizia bene. Poche nubi al mattino con locali brinate nelle valli interne. Maggiore nuvolosità la sera con pioviggini notturne verso ovest. I venti sulle coste spireranno con una tensione media da sud-est, mentre nell'interno spiccatamente da est. Il mare è leggermente mosso, le temperature 5 la minima, 14 la massima. Il sole è sorto alle 6.31 e tramonterà alle 18.04. Bene bene, allora cominciamo subito con le notizie dei giornali. Oggi voglio iniziare con una notizia di carattere nazionale. Non si può non parlare dell'8 marzo, della festa della donna. Ed ecco qua come il resto del Carlino tratta questo argomento. Lo tratta estesamente su due pagine. Donne al lavoro, ecco il rapporto tra le donne e il lavoro. È ancora un rapporto difficile, un rapporto conflittuale. Costrette a scegliere tra ufficio e maternità. Tante sono le donne che si trovano in queste condizioni. Lascia purtroppo una su cinque la propria carriera per dare la possibilità al marito, al compagno di coltivare la propria. Pesano le difficoltà di trovare servizi in grado di conciliare i due ruoli. Aiutare la donna a svolgere il ruolo di madre, ma anche di compagna di casa, insomma di donna di casa. E si allarga anche il gap contributivo, il gap per quanto riguarda gli stipendi. Insomma, le donne continuano a percepire un stipendio inferiore a quello degli uomini. Diamo un'occhiata intanto a questa tabella che si estende sulle due pagine del resto del Carlino. Il lavoro femminile. Ebbene, il tasso di occupazione delle donne del 55% è il 69%, invece quello dell'Unione Europea. Quindi siamo in difetto. Le donne lavoratrici in Italia sono 9 milioni e mezzo. Gli uomini sono 13 milioni. Vediamo un attimo ora come si evolve questa giornata dell'8 marzo. Noi la chiamiamo festa, ma è ancora una giornata di rivendicazioni. La battaglia dei diritti resta ancora da vincere. Il cammino per una piena emancipazione femminile non è compiuto. Emeline Pankhurst e Ada Negri, il ricordo di chi ha lottato per le parità. E poi abbiamo anche altri articoli. Ce ne sono tre in questa pagina. Si parla di una scrittrice, dai salari ai contratti la protesta deve unire. Irene Suave, autrice dello statuto delle lavoratrici. Abbiamo qui una intervista. Le quote rosa, per quanto riguarda le istituzioni, servono per il potere, non alle commesse. Questo è un po' il giudizio drastico. E poi la mimosa. La mimosa evoca la memoria preziosa di donne coraggiose. Di quelle donne che hanno lottato, anche a costo della propria vita, per rivendicare la parità. Per rivendicare i loro diritti. Ebbene, questo è quanto pubblica il resto del Carlino sulla pagina nazionale. Ora, invece, noi diamo un'occhiata al Corriere Adriatico sulla pagina di Fano. E vediamo l'apertura. Ovviamente si tratta di altri argomenti. Eccola qua. Eccola qua. Bambini e ragazzi con autismo rimasti senza istruttori di nuoto. Ancora sulle pagine la protesta della società fitness, che è rimasta acqua fitness, che è rimasta esclusa dal nuovo impianto natatorio della fondazione, ormai facciamo dire anche del comune. La fondazione l'ha dato in usufrutto al comune di Fano, il quale ha dato tutto l'impianto in gestione a un coordinamento di due associazioni, di due società, la Pool 4.0 e la Fano un fortuna nuoto. Ebbene, è rimasta fuori una società, l'acqua fitness, che si dedica alla riabilitazione dei bambini portatori di handicap, dei bambini disabili, i quali, sì, possono entrare, ma non possono entrare gli istruttori ai quali sono legati. E ancora sui giornali oggi questa protesta. E poi invece diamo un'occhiata ad un avvenimento, ad un incontro che si è svolto ieri al Tag Hotel, nella sala Assemblea del Tag Hotel di Fano, dove l'assessore regionale al lavoro, Stefano Aguzzi, ha evidenziato due opportunità per l'occupazione, per così incentivare le opportunità di occupazione ai laureati, a coloro che cercano un settore particolare. Sono quelle start-up di alta qualità che possono incrementare veramente la nostra economia. Occupazione di qualità, stanziati 13 milioni, presentate al Tag Hotel da Aguzzi, le due misure per il lavoro dei giovani. Ci sono state anche delle testimonianze interessanti durante il convegno. Dei giovani che hanno usufruito di queste opportunità lo scorso anno, che sono poi riusciti a inserirsi stabilmente, con contratti a tempo indeterminato, nel mondo del lavoro. Quindi sono delle opportunità molto, molto importanti e molto incisive. E poi parliamo delle iniziative della settimana di Fano, come capitale della cultura, associata con Pesaro. Siamo nell'ambito del 50 per 50. Sappiamo come Pesaro ha delegato anche ai comuni della nostra provincia il ruolo di compartecipazione alla capitale della cultura. E c'è stata un'importante iniziativa ieri, alle 15.00, al Teatro della Fortuna, dove c'è stato il processo alla transizione ecologica. Sappiamo come l'ambiente, nell'ambito di circonomia, ha acquisito un ruolo importante durante questa settimana. Però, insomma, di fronte a questa iniziativa, agli ambientalisti non sono stati contenti. Perché? Perché dicono ma perché mettere sotto processo la transizione ecologica, quando dovrebbe essere l'incontrario? L'idea del processo a teatro non ne convince l'associazione neanche un po'. La transizione ecologica, ha argomentato la lupus in fabula, non è un pranzo di gala, né un massacro sociale, ma una necessità urgentissima e inderogabile. Sembra paradossale e scandaloso che non siano sottoposti a processo, seppur simbolico, i combustibili fossi, o il capitalismo, l'iperliberista, che stanno provocando un aumento di emissioni nell'atmosfera, invece che la transizione ecologica, che dovrebbe, insomma, contemperare questi fenomeni. Insomma, c'è stato un po' di sovvertimento dell'imputato. Insomma, l'imputato non deve essere a transizione, ma dovrebbero essere invece gli elementi di inquinamento del nostro mondo moderno. Ed ieri è stato invece presentato un altro step, un'altra tappa raggiunta nella realizzazione del progetto della riqualificazione e della ristrutturazione dell'ex asilo Manfrini in zona Porto a Fano. Uno stabile, che risale alla fine del 1800, ristrutturato nel 1910, poi abbandonato, lasciato in abbandono, quando l'ufficio della marineria si è trasferito. Sono molti anni, dal 1996, che ci sono quei tralicci che indeturpano l'immagine di questa zona del Porto. Ora, finalmente, si stiamo avviando verso l'inizio dei lavori di riqualificazione. L'assessora Sara Cucchiarini, con il sindaco, ieri ha annunciato che la Giunta ha approvato il progetto esecutivo e nel giro di pochi giorni verrà abbandita la gara per la realizzazione dei lavori. Si tratta di un investimento di 2 milioni di euro. Tutto lo stabile sarà trasformato in museo della marineria fanese. Un'importante istituzione che combacia con tutte le altre realizzazioni che si stanno facendo nel Porto, in stretta connessione soprattutto con l'ampliamento del sottopasso di via Nazario Sauro, che dovrebbe essere fatto dalle ferrovie dello Stato. E poi sappiamo come in zona Porto c'è la vongola, poi c'è la barca che deve essere ristrutturata, insomma la piazzetta che deve essere riqualificata, insomma c'è tutta una serie di interventi per così dare un'immagine nuova al Porto di Fano. Ad Acqualagna, la vediamo qua a fondo pagina, è stato demolito il viadotto Candigliano. Ebbene, le immagini di questa demolizione, con questa tenaglia, con delle fauci enorme, è stato oggetto di un interessante servizio che Fano TV ha fatto ieri sera nel TG. Occhio alla notizia. Ebbene, demolito il viadotto Candigliano ad Acqualagna, l'ANAS ha completato la prima fase di questo provvedimento lungo la strada statale Flaminia all'altezza appunto di Acqualagna. Entrata in azione è una speciale macchina attrezzata che ha ridotto in briciole le grandi trave di cemento. Ebbene, è un lavoro che è stato fatto in brevissimo tempo ed è stato fatto nel migliore dei modi. Passiamo anche a Terre Roveresche, a Torre Roveresche, dove ritorna a vivere il Lago Bergamo. Lago Bergamo che era stato prosciugato qualche anno fa, ora invece viene ripristinato perché è una riserva d'acqua molto molto importante. Lo ha deciso l'assessore regionale Stefano Aguzzi che si è reso conto delle necessità di questo territorio campagnolo, di questo territorio di tipo agricolo. Ebbene, qui vediamo Sebastianelli, il sindaco e Aguzzi che hanno illustrato i molteplici vantaggi del ripristino di questo lago. Si chiama Lago Bergamo perché è incrementato da un torrente con lo stesso nome. E vediamo anche la pagina di Senigallia dove si cambiano i seggiolini dello stadio Bianchelli poi toccherà al Palaspot di Via Capanna. Ieri c'è stato un sopralluogo del sindaco Olivetti, le condizioni dei vecchi seggiolini erano indecorose per un impianto come questo, ha dichiarato, quindi sono state ripristinate queste sedute con i colori azzurro e rosso. Insomma, sono i colori proprio che identificano la natura dello stadio. Ad aprile poi sono in programma i lavori di cambio dei seggiolini anche del Palazzetto dello Sport di Via Capanna dove quegli attuali che furono installati nel 1983 non sono più adeguati alle esigenze. Vediamo anche quest'altro articolo che riguarda Senigallia. La società Autostrade gele il comune. 3 milioni per la compranare sono troppi. Olivetti precisa, a noi spetta la manutenzione ordinaria, la proprietà quella straordinaria. Era una convenzione che era stata sottoscritta con la vecchia gestione del comune. Ora invece quella nuova insomma la contesta perché deve pagare 3 milioni alla società Autostrade. Insomma, questa è una somma troppo onerosa per quanto riguarda il bilancio dell'ente pubblico. Vediamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro dove l'apertura è dedicata eccola qua è dedicata al Palazzo Mazzolari Mosca questa bellissima residenza di Via Rossini a Pesaro che sta per essere ristrutturata. Dall'ex falegnameria che è una parte di questo stabile ci saranno nuovi spazi per vivere l'arte ai musei civici. Via Libera dunque al recupero di Palazzo Mazzolari Mosca e dei vicini locali ora in disuso. È stato questo l'oggetto di una conferenza di servizi che si è svolta ieri e che ha fissato le prossime tappe aggiornando un po' il cronoprogramma dei lavori. Ora però il Comune deve correre a liberare l'ultimo pezzo del complesso architettonico noto come l'ex falegnameria che è compreso tra Palazzo e la sede dei musei civici per non perdere i fondi del PNRR che sono veramente una linfafita vitale per realizzare queste opere. Vediamo ora qualche notizia di cronaca. Voleva fare sesso e mi ha rapinato in auto. Ebbene l'accusa questa volta viene lanciato da un cittadino pesarese nulla di strano. I cittadini pesaresi possono lanciare tutte le accuse che vogliono se sono private ma la particolarità è che questo cittadino aveva 95 anni. e ha accusato una donna una nigeriana che voleva costringerlo a fare sesso e voleva appunto dei soldi anche se lui aveva rifiutato. Ovviamente la tesi della donna è un'altra dice che lui che voleva fare sesso con lei e non era lei che le aveva proposto di fare sesso con lui però sono questioni che dovrà dirimere il giudice comunque l'età al 95 anni insomma è proprio un arzillo questo vecchietto insomma che ancora aveva queste possibilità. Accusato di stalking evade dai domiciliari intercettato e arrestato per la quarta volta è veramente seriale questa persona si tratta di un 33enne peruviano che torna in carcere dopo l'udienza di convalida a suo carico anche a debiti per maltrattamenti doveva stare ai domiciliari ma è stato trovato dai carabinieri che lo hanno rintracciato in piazzale Matteotti era chiaramente alterato era innervosito davanti alle divise i militari lo hanno arrestato per la quarta volta in pochi mesi ieri l'udienza di convalida con l'aggravamento della misura cautelare il peruviano resterà in carcere dunque e quindi non avrà più la possibilità di uscire dalla propria abitazione volevo farvi vedere anche la notizia di Urbino eccola qua si parla di un maxisfratto che ormai diventa esecutivo si tratta di uno sfratto di 14 famiglie che abitano in uno stabile che si trova vediamo un attimo se riesco a trovare in un immobile di 3 anni 14 famiglie sono 55 persone di cui 17 minori ebbene ci sono delle dichiarazioni del sindaco Gambini ma anche dell'assessore ai servizi sociali Elisabetta Foschi che forniscono gli opportuni chiarimenti da parte dell'amministrazione comunale sulla possibilità di sfratto per morosità i legittimi proprietari ormai hanno tutti i diritti di rientrare in possesso del loro stabile e l'amministrazione comunale non è che può fare molto può prendersi carico soltanto dei minori e sistemarli in apposite strutture ma insomma degli adulti invece non può fare nulla a meno che non concorrano le case popolari dopo qui la cosa è molto molto lunga e allora chiudiamo il Corriere Adriatico prendiamo in esame invece il resto del Carlino dove c'è un articolo in sintonia con la festa della donna con l'8 marzo Cristina licenziata tre anni dalla pensione così che a 57 anni ho aperto un negozio è una delle iniziative imprenditoriali che rendono le donne molto attive abbiamo visto prima nel resto del Carlino sulla pagina nazionale come il rapporto tra l'elemento femminile e il lavoro è ancora problematico ebbene c'è invece chi ha delle risorse proprio quelle di carattere quelle endemiche che consentono alle donne che poi subiscono delle traversie nella loro vita di reagire a queste e quindi di rintraprendere una nuova strada Cristina licenziata tre anni dalla pensione era la commessa di uno storico negozio in via Cavour e quindi rischiava veramente di avere una vecchiaia poco serena ma la madre 84enne l'ha convinta a assumere un lavoro improprio ora lavorerai per te stessa ha detto e quindi le cose sembrano si siano rivolte anche circonomia si pone nel segno della donna Maria risorta a teatro al gonfalone un palestinese e un ebreo per la pace Maria risorta il celebre romanzo di Giulio Grimaldi verrà oggetto di una nuova ristampa oggi al 17 vediamo un po' se dico bene l'orario dunque 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 non riesco beh vi lascio a voi poi il il compito di individuare l'orario nel foyer del teatro ecco alle 18 e 30 alle 18 e 30 nel foyer del teatro si presenta la ristampa del volume Maria risorta di Giulio Grimaldi al centro poi ci sarà dello spettacolo alle 21 uno spettacolo che al romanzo di Maria risorta in un certo senso si riallaccia ed è uno spettacolo che viene organizzato dal coro polifonico malatestiano su testi di Carlo Simoni e di i Peppe Franchini si tratta di storie d'amore e di mare e poi ci sarà anche un'altra rappresentazione ma non oggi ci sarà un altro appuntamento la prossima settimana uno spettacolo fatto dai ragazzi del liceo Torelli e Nolfi che hanno rappresentato le scene appunto del romanzo erano fatte un'anticipazione la scorsa estate davanti alla Darsena Borghese parliamo di politica e qua vediamo la fotografia a mezzo volto di Stefano Marcheggiani che è il candidato sindaco dei progressisti campo largo senza il partito democratico un capolavoro così viene definito ironia dell'ex senatrice Francesca Puglisi che appartiene ai Dem mi auguro che non saremo masochisti fino al fondo e ci compatteremo al secondo turno dice la ex parlamentare insomma veramente questa divisione del centro-sinistra appare agli occhi dell'elettorato un po' incomprensibile però insomma così è la politica Asilo Manfrini conto la rovescia museo e sala di incontri in 18 mesi a soli 120 giorni dall'acquisizione del complesso però un'acquisizione che è durata come iter burocratico molti molti anni però adesso si corre a sfrombattuto la Giunta ha dato l'ok al progetto esecutivo da 2 milioni e vediamo come è adesso l'ex asilo Manfrini e come diventerà una volta ristrutturato su progetto dell'architetto Sergio Delrico violenza vanno a casa per arrestarlo e ci trovano anche un etto di droga è accaduto a Pergola si tratta di un trentenne che doveva scontare una pena per reati da codice rosso passati ingiudicato i carabinieri però hanno eseguito una perquisizione domiciliare così è spuntato anche l'ascis il quantitativo è stato sequestrato era nascosto in camera pare fosse già pronto per essere spacciato ieri la convalida davanti al GIP dell'arresto però non ha convinto i militari la giustificazione adotta appunto dal trentenne che era per l'uso personale questa droga Lago di Barchi 300 mila euro per ripristinarlo si tratta appunto del Lago Bergamo di cui abbiamo parlato questi soldi gli stanzia la Regione Marche e l'assessore Aguzzi assicuriamo al territorio una riserva idrica molto molto importante perché in questo momento siamo ancora in clima di siccità siccità idrica scarsità d'acqua Urbino Scaramucci eccolo qua lo troviamo in questa grossa fotografia Federico Scaramucci che ha presentato la sua candidatura a sindaco di Urbino ed è espressione della coalizione la città che verrà Scaramucci alza il sipario sul futuro della città Ducale così cambieremo Urbino ha dichiarato e annuncia la popolazione si cala questo è vero va invertito il trend aumentando i servizi alle giovani coppie in modo particolare e più attenzione alla sanità e beh questo è un provvedimento che serve per tutti siamo in conclusione l'unica notizia che voglio segnalarvi per quanto riguarda Pesaro è quella di apertura del resto del Carlino NG la parità è certificata mettiamo tutti sullo stesso piano e l'azienda ci guadagna due volte la misura punta a ridurre il divario tra lavoratori e lavoratrici introducendo anche delle premialità e questo è quello che fanno gli imprenditori illuminati con questa notizia terminiamo la nostra rassegna stampa come sempre l'appuntamento è alle 20.30 per le notizie del giorno con il TG di Occhio alla Notizia di Pano TV e domani per una nuova rassegna stampa alle 7 in punto grazie per l'ascolto a risentirci a rispondi